E' che noi lavoriamo spesso con la legge alle varie umilizzazioni che è deciso di diventare. La regione e il signor Cesaro alla provincia lo spesso con gli obiettivi di centro-destra. E qui rimane con le pezze al culo sono sempre i lavoratori e i loro figli. Se oggi abbiamo deciso di vivere qui è perché abbiamo incidruato la propria industria come reale bandante di queste politiche e questo palazzo come l'obiettivo da tanzionare. Perché questo palazzo è maggio e di tanto è questo a tanzionare. E qui rimane con le pezze al culo. Sampi, 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 Sampi! Sampi, Sampi, Sampi! Sampi, Sampi, Sampi!